Ciò consentirà di elevare ulteriormente in proiezione futura la cornice di sicurezza del Paese. Un'occasione, quella della festa della Polizia, per tracciare un bilancio dell'attività svolta dalla Questura di Pesaro e Urbino. La divisione anticrimine ha emesso 62 avvisi orali, 189 fogli di via obbligatori e due sorveglianze speciali per soggetti pericolosi. Per il reato di Stolking ha ammonito 11 persone responsabili di atteggiamenti persecutori. L'ufficio Immigrazione ha istituito e rilasciato circa 8.800 permessi di soggiorno, rifiutandone o revocandone però 313. Ha trattato circa 60 pratiche di espulsione e 15 accompagnamenti coattivi alla fontiera. Ha esaminato inoltre mille istruttorie per acquisire la cittadinanza italiana. Ha effettuato controlli di frontiera su 60 navi turistiche per un totale di 7.300 passeggeri controllati. Le volanti inoltre hanno effettuato circa 12.000 controlli su strada di persone e 5.600 di veicoli. E tratto in arresto 21 persone indagandone in stato di libertà 152. I poliziotti di quartiere inoltre hanno assicurato 80 servizi di pattugliamento nelle zone centrali della città. La squadra mobile ha sviluppato incisi attività di contrasto ai cosiddetti reati predatori, in particolare rapine e furti. Il bilancio complessivo ha fatto quindi registrare 46 persone arrestate o catturate o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria. Il sequestro di circa 1,4 kg di cocaina e 3 kg di marijuana e circa 2,4 kg di hashish e circa 280 grammi di eroina. Il commissariato di pubblica sicurezza di Fano ha controllato su strada circa 6.160 persone e 3.100 veicoli, arrestando 49 persone e deferendone in stato di libertà 107. Ha sequestrato inoltre 660 grammi di marijuana. Quello di Urbino ha controllato su strada circa 8.300 persone e 3.150 sono stati veicoli controllati, arrestando 12 persone e deferendone in stato di libertà 151. Inoltre il sequestro di stupefacenti ha portato al suo bilancio attivo 4,2 kg di marijuana e 200 grammi di hashish e 600 di cocaina. La polizia stradale infine ha assicurato circa 5.890 pattuglie su strada ed elevato 21.230 contravvenzioni al codice della strada. Ha tratto in arresto 4 persone e ne ha denunciate alla polizia giudiziaria 151, ritirando 295 patenti e 152, quelle invece di circolazione. Febbrile l'attività anche della polizia ferroviaria che ha identificato circa 1.300 persone arrestandone una e denunciandone un'altra a piede libero. Ruolo cruciale anche quello della polizia postale che ha perseguito truffe telematiche e attività illecite connesse all'utilizzo fraudolento e alle clonazioni di carte di credito elettroniche. Inoltre ha contribuito all'arresto di una persona e segnalandole all'autorità giudiziaria 18. Infine numerosi sono stati controlli a persone e veicoli nell'ambito dei servizi di vigilanza agli uffici postali di tutta la provincia di Pesaro e Urbino.